Ciao, da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net ti do il benvenuto all'ottava puntata del podcast di Psynel o all'audio newsletter di questa settimana. Oh, siamo finalmente giunti all'ottava puntata del podcast che, ti ricordo, va in linea diciamo su due binari, da un lato quello sul blog che serve l'audio newsletter nella quale siamo probabilmente oltre alle 300 puntate e invece al podcast che da un po' di tempo, se sono otto puntate, potrei dire da un paio di mesi, sto uploadando su iTunes. Oggi parliamo di un argomento più che interessante, le relazioni di coppia e in modo specifico potremmo chiamare questa audio newsletter come salvare la coppia o come salvare un matrimonio. Tranquillo che tu sia sposato o meno, che tu abbia un partner o meno, in quest'audio newsletter troverai tanti spunti di riflessione su come funziona la coppia e in generale su come funzionano le relazioni. E in caso tu fossi single, sappi che se nella prossima relazione sfrutterai questi piccoli accorgimenti, potrebbero forse rivelarsi davvero vitali per la tua storia. Quindi si tratta di ricerche e studi davvero, davvero molto, molto interessanti ed importanti. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Perché mettere un post sulle coppie in un blog dedicato alla crescita personale? La prima motivazione che mi viene in mente è banalissima. Perché tutti, prima o poi, ci accoppiamo. O almeno è ciò che succede alla maggior parte delle persone. Però questi accoppiamenti non sono privi di pericoli ed imprevisti. E a volte sono davvero, davvero molto forti. Ti basta immaginare che la metà delle persone che vengono nel mio studio per richiedere una psicoterapia lo fanno perché sono in qualche modo in crisi con il proprio partner, con il proprio marito, con la propria moglie, con il proprio amante, eccetera, eccetera. Come probabilmente saprai, i primi tempi che si sta insieme è tutto meraviglioso, è tutto rosa ai fiori. Infatti questi esercizi non sono indicati per chi è alle prime armi, ma servono almeno per chi ha un paio di anni, cinque anni, potrei dire scherzando, di convivenza prima di metterli in pratica. Ovviamente ognuno ha i propri tempi. A noi basta ricordare una semplice regola. Evita di dare per scontato il tuo o la tua partner perché ormai è innegabile. L'amore necessita di attenzione ed impegno. Non è una cosa che puoi seguire fino a quando le cose funzionano. È qualcosa di molto più importante che va coltivato, proprio come un giardino. Se, come me, hai avuto qualche storia, più di una, diciamo così, nella vita, anche tu avrai assistito a quel fenomeno di graduale spegnimento dell'amore nella coppia. Il post di oggi serve in parte per prevenirlo e per darti degli piccoli strumenti pratici da applicare con lui o con lei. Ed oggi vedremo insieme alcune considerazioni scientifiche per far funzionare meglio la coppia. Le ho prese un po' qui e un po' là, ma i riferimenti più importanti sono legati al numero di gennaio e febbraio di psicologia contemporanea e ad un articolo del mitico Psyblog. Ed iniziamo proprio dall'articolo apparso su Psyblog che ha mostrato uno studio fantastico sulle coppie sposate dove, detto in parole povere, sono state studiate diverse coppie nel corso di tre anni. Queste sono state suddivise in tre gruppi. Nel primo chiamato del conflitto si insegnava alle coppie come appianare i propri conflitti e come gestirli verbalmente. Una pratica che un tempo era molto molto in voga. Nel secondo gruppo invece venivano insegnate tecniche di accettazione e di compassione. Qualcosa molto simile alla mindfulness, ma come vedremo diverso. E infine al terzo gruppo veniva insegnato, anzi veniva invitato a guardare cinque film con il proprio partner e discutere per dieci minuti dopo averlo visto. Ognuno di questi film metteva in risalto un aspetto specifico del conflitto di coppia. Ad esempio il tradimento, ad esempio la prima volta che c'è il calo della libido, eccetera, eccetera. Ed infine c'era un quarto gruppo di cui non ti ho parlato che è quello delle coppie di controllo, fra virgolette, che non sono state sottoposte a nulla praticamente. Ebbene, dopo tre anni, qual è stato secondo te il gruppo che ha avuto minori divorzi? Esatto, quello dei cinque film. In modo del tutto inaspettato, quello dei cinque film ha dato la metà dei divorzi nei tre anni successivi. Secondo i ricercatori, questo è dovuto al fatto che non è necessario diventare dei guru della meditazione o degli esperti di appianamento dei conflitti oppure apprendere tutte le tecniche di comunicazione verbale o non verbale per andare d'accordo con il proprio partner. Ma basta ragionare e mentalizzare un po' assieme su quali possono essere gli eventuali conflitti tipici della coppia che, come sappiamo, sono sempre quelli, per quanto le coppie siano diverse ed uniche. Ci tengo a sottolineare che le coppie addestrate all'accettazione e alla compassione avevano ricevuto solo alcune lezioni, anzi una, su come si dovrebbe accettare e compatire, compatire il partner ma non un addestramento completo alla mindfulness che, come vedremo, potrebbe tranquillamente essere annoverata fra i consigli di oggi. Ormai, come sai, se segui Psynel, la meditazione, la mindfulness, è uno dei consigli di sempre. Bene, detto questo, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli per salvare il matrimonio e riaccendere la complicità nella coppia. Primo. Il primo esercizio è quello pubblicato da Psyblog, cioè scegliere quel film romantico o comunque che metta in scena una relazione di coppia, guardarlo e poi discuterne per dieci minuti terminata la visione. A quanto pare ti basta fare questo, con almeno cinque film, per dimezzare la probabilità che nei prossimi tre anni la tua coppia si sfaldi. Un consiglio che sembra davvero banale, ma come ti ho appena detto, ha dato enormi risultati a livello sperimentale. Ricordati di scegliere insieme al tuo partner questi cinque film e ricordati di sceglierli nei vari ambiti che, secondo voi, in cui secondo voi avete qualche difficoltà di relazione. Secondo. Manifesta e prova gratitudine. Nel corso degli anni abbiamo visto decine di studi che esaltano il potere di questa emozione. Anche nelle relazioni ci sono una valanga di studi che provano che le coppie maggiormente affiatate sono anche quelle che riescono a manifestare la propria gratitudine quotidianamente, anche nelle cose più piccole e, diciamo così, irrilevanti. Un buon esercizio è quello di fermarti a fine giornata e chiedere al tuo partner almeno due o tre grazie per qualcosa che ha fatto, o anche solo per come ti sta accanto. Chiederglielo o dirglielo, dirgli per che cosa mi ringrazio, oppure tu dirgli ti ringrazio per queste due o tre cose. Quando tu ringrazi, ricordati che devi farlo in modo specifico, in modo genuino. Devi farlo con le cose più piccole in assoluto e non con le cose grandi, magari con un regalo oppure con un gesto particolare. Può diventare un esercizio che fate in due, dove a fine giornata vi ringraziate vicendevolmente per una, due o massimo tre cose che avete fatto durante la giornata. Terzo, pratica la presenza. In altre parole, allenatevi a restare nel presente quando state assieme. Proprio come succedeva ai primi tempi, all'inizio tutte le coppie che stanno bene sembra che vivano esclusivamente nel momento presente, ma via via che ci si abitua, queste abitudini spazzano via la presenza e tutti i giorni diventano uguali e tutti i giorni ci passano sotto al naso senza che ce ne rendiamo conto. Allenarti e allenarvi anche magari con qualche esercizio informale di cui abbiamo parlato in passato, o anche quelli più avvincenti sulla sessualità, può essere una grande mano per recuperare quella unicità da vivere insieme, l'unicità del momento presente, il momento più importante che vivi insieme alle altre persone. Quarto, utilizza la nostalgia. Questo sentimento che sembra negativo e per anni è stato dipinto come negativo ha invece un forte impatto sulla coppia. Sembra infatti in grado di riattivare quelle buone sensazioni dello stare insieme. Sono una sorta di bacheca dei ricordi positivi, come quando ci si ferma un attimo a ripensare ad una vacanza meravigliosa passate insieme, o qualsiasi altro ricordo. I miei colleghi consigliano di fare liste di canzoni romantiche piaciute nel passato e di confrontarle con il proprio partner. Insomma, prendetevi del tempo per parlare dei ricordi nostalgici, ricordandovi di usarli come attivatori di stati positivi e non come rimpianti del passato. Quinto, guardatevi negli occhi per almeno un minuto tutti i giorni. Una delle cose che si fa sempre meno è guardare negli occhi il proprio partner. Via via che passano gli anni ci si guarda sempre meno, o meglio, ci si ferma sempre meno quando si incrocia lo sguardo del partner. Ne abbiamo già parlato dell'esistenza di ricerche che provano quanto sia importante, perché se guardi per almeno uno o due minuti una persona negli occhi, si crea una sorta di legame speciale e nel caso del partner si crea e si ricrea quel contatto avvenuto anni prima. Questo è un esercizio che nella mia professione ha dato enormi frutti positivi e l'ho fatto provare a moltissime coppie con grande soddisfazione. Provalo anche tu. Nota bene, ci tengo a precisare che tutti questi esercizi non vanno fatti quando la coppia è già in crisi. Si tratta di un allenamento e non di una gara. Mettili in pratica prima che sia troppo tardi, fra virgolette. Prima, scherzando, ti ho detto dopo 5-2 anni. In realtà si possono fare già dopo il primo anno che si sta assieme. Mantenere viva una relazione è una delle cose più difficili al mondo. Spesso, in questo strascico degli anni 80 e 90 che ci si porta dietro, sembra che l'immagine della persona di successo sia quella del conquistatore che ha avuto 10.000 storie diverse, con le coppie aperte, moderni, eccetera, eccetera. Ebbene, ho sempre creduto che la vera difficoltà non sia nel conquistare centinaia di persone, ma nel restare con la stessa persona e vederci sempre nuovo in quella stessa persona. Questo non me l'ha insegnato nessuno, ma l'ho imparato dai diversi errori che ho fatto nella vita e che ho cercato di capitalizzare come risorse personali. Se per caso hai l'articolo di psicologia contemporanea, vedrai che ho saltato un punto, quello dedicato alle illusioni positive. In realtà non sono d'accordissimo con quel punto, per questo non l'ho inserito. Mentre, per quanto riguarda l'esercizio del guardarsi negli occhi, l'ho preso dai molti studi che in questi anni ho raccolto sulle relazioni di coppia. Ti ricordo che li trovi nella colonna di destra del blog, sotto la rubrica relazioni e seduzione. Sì, esatto, proprio sotto la parola seduzione, perché la seduzione migliore che tu possa fare è quella che fai con il tuo partner, con la persona che hai accanto. Quindi impegnati con il tuo partner, impegnati, mostrali, fagli ascoltare quest'audio newsletter, andate sul blog, guardate gli esercizi, andate sulla rubrica della seduzione e delle relazioni e provate a fare qualche esercizio per migliorare la vostra coppia. Vedrete che me ne sarete eternamente grati, anche per i prossimi tre anni. Bene, detto questo, tra pochi secondi la rassegna stampa di Psinel. Bene, questa è stata una settimana molto particolare perché ho detto più e più volte le mie opinioni. Però, come sempre, iniziamo dal primo post della settimana che è l'audio newsletter della scorsa settimana, la settima puntata del podcast, dedicata a come motivarti nel tuo lavoro e motivarti anche in contesti difficili. Praticamente è un semplicissimo esercizio tratto dalla psicologia positiva che ti serve per dare un significato migliore a ciò che fai. È più facile farlo che parlarne e quindi, come sempre, ti invito, se non l'hai ancora fatto, ad ascoltarlo e a praticare questo piccolo esercizio su qualsiasi attività giornaliera, non solo su un lavoro professionale o qualsiasi altro tipo di lavoro. Ascoltalo e fammi sapere che cosa ne pensi. Il secondo post della settimana è dedicato al mentalismo e, a differenza delle altre volte, non si tratta di un articolo scientifico, ma si tratta della mia opinione su che cosa è il mentalismo. In modo particolare ho scritto questo post perché sono un po' stufo di tutte le persone che mi scrivono Genna, sai, vorrei imparare a comunicare meglio con le persone. Quando è che fai un corso sul mentalismo? Sai, Genna, vorrei imparare la vera arte della persuasione. Quando è che fai un corso sul mentalismo? Genna, ma come si fa a capire il linguaggio non verbale? Come fanno i mentalisti? Ecco, tutte queste domande sono praticamente il segno del fatto che il mentalismo, per quanto meraviglioso e affascinante come gioco e intrattenimento, possa, in certi, in determinati casi, dare una brutta, non brutta, un'idea sbagliata di che cosa fa uno psicologo o di che cosa fa una persona che si occupa di questi argomenti. Ti invito a leggerlo, vedrai è un po' forte, è un po' duro, ma perché ci ho messo un po' del mio stile da delirio e noterai che comunque ho sempre un occhio di riguardo per le cose fatte per bene e al termine di questo post troverai anche un piccolo esercizio di mentalismo puro. E infine il terzo post della settimana è dedicato finalmente ad un delirio vero e proprio che deriva dalla mia esperienza clinica, cioè dalla mia esperienza come psicologo e psicoterapeuta all'interno del mio studio. Ti è mai capitato di fare magari un rilassamento, una meditazione, di fare un esercizio di PNL o qualsiasi altro esercizio e poi di sentirti meravigliosamente bene? Ti è mai capitato? Ebbene, questa sensazione di benessere che provavi in quel determinato momento, quanto era predittiva del cambiamento personale? Cioè se quell'esercizio serviva ad esempio per far motivarti a fare qualche cosa, quell'esercizio ti ha davvero motivato? Queste sono alcune delle domande a cui cerco di rispondere attraverso questo delirio, attraverso la mia esperienza. Secondo me è un argomento da non sottovalutare nel campo della crescita personale perché nasconde in sé diversi elementi che possono esserci utili per farci persistere in questo cammino inevitabile di crescita personale che ognuno di noi è chiamato a fare. Lo so, ti sembra un discorso un po' strano, ma in realtà è proprio così. giorno dopo giorno sei costretto a crescere, sei costretto a cambiare, sei costretto a vestire dei panni diversi. Però se hai una piccola mappa a volte puoi vestirti un po' meglio, un po' più decentemente, con i colori meglio equilibrati e in questo post è proprio di questo che ti parlo. Leggilo e anche qui è davvero necessario che tu mi faccia sapere che cosa ne pensi, o in privato, come molto spesso fai, oppure qui sotto, fra i commenti. Bene, come probabilmente saprai queste audio newsletter, questi podcast, li registro un po' prima del weekend. Infatti, fra qualche ora terrò il corso di Psinel a Padova. Se sei stato in aula con me, sono sicuro che ci siamo divertiti ed abbiamo fatto un sacco di esperienze interessantissime. Ti ringrazio di cuore per la fiducia che spero di aver ripagato. Mi raccomando di applicare per bene gli esercizi in vista del prossimo workshop di Psinel dove approfondiremo, espanderemo determinati concetti e ne inseriremo di nuovi. E approfitto di questo piccolo spazio nuovamente per ringraziarti della tua fiducia. Bene ragazzi, siamo finalmente giunti al termine di questa ottava puntata del podcast. Se mi stai seguendo da iTunes, ti chiedo il grosso piacere di cliccare su mi piace e magari scrivere una piccola recensione. E se vieni sul blog, invece, ti invito a scrivere i tuoi commenti, a farmi le tue domande, che ti ripeto, le domande più interessanti verranno inserite all'interno del podcast. E bene, anche per oggi è tutto. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologianeurolinguistica.net.